Musica Ben trovati con l'appuntamento del punto dopo il TG Max. Torniamo a parlare di ferrovia e lo facciamo ancora una volta con un gradito ospite che è Enrico Dolfi, direttore della divisione ferroviaria TUSPA. Ben trovato direttore. Buonasera, buonasera agli spettatori. Grazie per l'invito, ormai mi sento quasi di casa. Sì, ce l'ha detto anche l'altra volta e quindi noi continuiamo comunque ad ospitarlo perché la divisione ferroviaria TUSPA sta facendo davvero diverse cose. Cominciamo con l'esercitazione davvero particolare che è quella che ha visto protagonista, proprio la divisione ferroviaria TUSPA, per un'esercitazione di emergenza di un incidente ferroviario in galleria. Un'esercitazione svolta con RFI. È andato tutto bene e si è svolto, lo ricordiamo, la notte tra il 18 e il 19 aprile scorsi. Innanzitutto perché questa iniziativa, a cosa è servito questo test, questa esercitazione? Mi correrò obbligo un'altra volta nel ripetermi, nel dire che la ferrovia è di una complessità unica. È una simulazione di emergenza indetta dalla prefettura di Chiedi, a cui hanno partecipato RFI come proprietario dei binari, come gestore dell'infraduttura, TUSPA come impresa ferroviaria, ossia ammesso sia il treno che il personale di condotta, produzione civile regionale, il nostro dirigente delle emergenze, l'ingegnere liberatore, il 118, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo simulato uno scenario che statisticamente è molto difficile che si possa verificare, ossia un treno che stava entrando nella galleria, in questo caso la galleria San Giovanni di San Vito, Chiedino, un carrello si è frenato, ha sprigionato delle fiamme, queste fiamme hanno prodotto dal fumo che ha invaso i vagoni, dove c'erano 30 figuranti della produzione civile e questo fumo, oltre a creare dei malori tra i passeggeri, ha creato anche il malore, lo svenimento e la perdita totale di conoscenza da parte del macchinista, che ha avuto la prontezza di fermare il treno a 300 metri appena entrato nella galleria. Ecco, non è che gli incidenti non succedano, ma è perché purtroppo la cronaca ce ne ha consegnati diversi negli ultimi anni. Condivido pienamente, abbiamo dovuto prendere in considerazione lo scenario peggiore, perché quando si fanno la simulazione delle emergenze, se si prende in considerazione lo scenario maggiore, si è preparati a tutto, al peggio. Se invece si prende lo scenario che potrebbe rientrare nella quasi normalità, non è più una simulazione d'emergenza. E dunque tutto questo, dicevamo, è servito a che cosa? Soprattutto per il macchinista stesso, che insomma ha fatto finta in qualche modo di sentirsi male, e per tutti quelli che poi sono intervenuti a prestare soccorso. La macchina si è mossa bene? La macchina si è mossa perfettamente. Abbiamo testato proprio l'effettivo accadimento di un incidente con relativa emergenza. All'una precisa, il nostro capotreno, che è l'unica persona titolata a colloquiare telefonicamente con la sala operativa di Pescara, di RFI, ha comunicato che c'era questo incidente. La sala operativa di RFI di Pescara ha avvertito tutte quante le forze dell'ordine, in primis i Vigili del Fuoco, il 118, i Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Produzione Civile, c'era presente anche il direttore della Produzione Civile regionale, Mauro Casinchini, e da lì si è iniziato questo avvicinamento alla rete ferroviaria, utilizzando per la prima volta un mezzo dei Vigili del Fuoco, un mezzo bimodale, gomma-treno, che in poche parole si è portato con le ruote in gomma sopra la sede dei binari, io semplifico il concetto per farlo fissare in maniera più veloce, e poi piano piano si è posizionato sopra il binario con delle ruote in ferro, con un carrello, e sono entrati e hanno iniziato il salvataggio, si è affiancato al treno, ha esteso delle passarelle tra questo mezzo e il treno per accedere all'interno, i Vigili del Fuoco sono entrati con delle maschere particolari affinché non potessero risultare anch'essi intossicati, hanno evacuato subito i passeggeri che potevano utilizzare le proprie gambe, il personale RFI in questo caso adeguatamente equipaggiato li ha scortati fuori dalla galleria, e invece poi loro hanno provveduto a fare evacuare i feriti importanti e più gravi, tra cui una persona che durante questa esercitazione ha avuto anche una forma di attacco di panico reale, è stato dovuto poi condurre effettivamente al pronto soccorso. Noi eravamo già preparati a questa situazione perché due settimane prima a San Vito, un nostro locomotore, ha avuto un principio di incendio e perciò abbiamo testato in forma molto più blanda, in forma molto più semplice, però questo intervento delle forze dell'ordine che è importante. L'importanza è mantenere attiva e costante la filiera delle comunicazioni, perché se si dovesse intoppare solo e soltanto una comunicazione ci potrebbero essere delle difficoltà. E a ottobre dovremo replicare la stessa simulazione sulla nostra linea, sulla San Vito Lanciano, perché noi oggi abbiamo testato un'emergenza sulla linea ferroviaria italiana, su RFI. Dobbiamo obbligatoriamente, come ci ha ordinato il prefetto e con quale concorderemo una data, testarla anche sulla nostra linea. Ecco, nel frattempo la regia ci propone proprio le immagini di questo mezzo particolare dei Vigili del Fuoco che con gomme viaggia proprio sui binari della ferrovia, come diceva poco fa il direttore. Sì, si avvicina alla sede ferroviaria con le gomme, con le ruote, e poi queste gomme si alzano con dei martinetti traulici e mano a mano, pian piano, viene posizionato con le ruote metalliche sul carrello e diventa un mezzo ferroviario a tutti gli effetti. E qui lo vediamo proprio in affiancamento al treno, perché questo è un mezzo che non avrebbe avuto la forza di trainare fuori dalla galleria il treno. Questo mezzo serve a mettere in sicurezza tutto ciò che è il materiale rotabile, perciò a spengere l'incendio, a portare in evacuazione tutti i passeggeri, eventuali feriti e contusi, e poi subentra il locomotore di soccorso, proprio adatto a questo genere di interventi, e avrebbe trasportato fuori il treno, però già messo in sicurezza. Perciò già all'interno della galleria avrebbero spento l'incendio. Allora, diciamo che questo capitolo, insomma, lo abbiamo compreso, anche perché ci sarà, come appunto preannunciava il direttore Dolfi, una seconda esercitazione nei prossimi mesi, sarà concordata la data con la prefettura di Chieti, che sovrintende ovviamente a tutti i, possiamo dire, i momenti di emergenza che potremmo vivere nella nostra provincia. Infatti, il perfetto della cioppa poi è molto molto attento a queste emergenze, almeno per quanto riguarda quelle di nostra competenza del ferroviario, e ci tiene proprio che vengano attuati questi piani operativi, che se no più delle volte rimangono sulla carta. Queste cose vanno testate, se no soltanto sulla carta non servono a nulla. E sono d'accordo con lei. Voltiamo pagina, parliamo sempre ovviamente della divisione ferroviaria tua, che ha ottenuto dei finanziamenti con il Fondo Sociale di Sviluppo e Coesione 2021, quindi 2021-2027, per circa 90 milioni di euro. davvero una cifra importante che sarà utilizzata, appunto ci dirà adesso il direttore Dolfi, sarà utilizzata sia dalla Val di Sangro alle aree interne fino a Villa Santa Maria. Allora chiediamo come, partiamo dalla Val di Sangro. A proposito c'è la famosa ormai piattaforma Saletti, che appunto svolge un ruolo importante per quanto riguarda il trasporto ferroviario delle merci. Io prima di tutto voglio ringraziare i miei collaboratori che hanno compilato e redatto queste schede, che sono state di una complessità unica. Voglio ringraziare i vari dipartimenti della Regione e tutte le persone che hanno contribuito a realizzare questa nostra e a concretizzare questa nostra richiesta, soprattutto anche alla fiducia che ci ha accordato il Presidente Marsilio, perché assegnare la divisione ferroviaria di 2,90 milioni significa che viene recepito e viene anche percepito l'impegno che noi stiamo mettendo per movimentare su ferro questa nostra Regione. I 90 milioni si inizia soprattutto per ridare un collegamento ferroviario, infrastrutturale, ferroviario e veloce con le aree interne. Perché io sono anni che vengo in Abruzzo, sento sempre parlare di queste aree interne, però poi quando ho fatto dei viaggi in macchia per Castel di Sangro, Villa Santa Maria, per tornare a Lanciano vi posso garantire che sono stati dei viaggi della speranza. Inizieremo subito con un investimento di 18 milioni di euro che serve per fare il raddoppio dell'attuale raccordo Fossa-Cesia-Saletti e poi si prosegue con tutto l'attrezzaggio tecnologico, perciò con i sistemi di segnalamento e sicurezza, con la regolamentazione dei semafori. Io cerco sempre di semplificare i concetti dei passaggi a livello e l'elettrificazione fino passando ad Archie per arrivare a Villa Santa Maria. Questo perché? Perché il raddoppio consentirà la promiscuità del trasporto, perché il treno di Pendolari che viene da Villa Santa Maria e deve transitare a Fossa-Cesia e proseguire magari per Pescara o per l'Aquila e si trova di fronte a un treno merci lungo 500 metri dovrebbe rallentare. Il raddoppio consente questa promiscuità perché il TPL è da sempre il mezzo che ha priorità sulle merci. Non ci dimentichiamo che quella linea ferroviaria che tutti quanti semplificano e banalizzano come il raccordo di Saletti, quello non è un raccordo di traffico merci, quello è un'opera che è stata costruita con dei finanziamenti per il trasporto pubblico locale e tala deve rimanere. Noi abbiamo la fortuna anche di implementarla, incrementarla con il trasporto o merci e così di conseguenza ci troveremo ad avere questo bellissimo collegamento. Un collegamento importante a cui bisognerà dedicare anche l'acquisto di tre treni per circa 20 milioni. Perché? Perché la tratta da Archie a Villa Santa Maria è una tratta nuova come materiali, però è su un tracciato antico, il tracciato purtroppo deve seguire l'orografia e deve seguire soprattutto il suolo, perciò non può essere modificato. E servono di treni che hanno i carrelli, le ruote che fanno delle curve più strette e pesano di meno per passare su dei ponticelli e ponti che sono un po' più datati. Poi abbiamo tanti altri investimenti che vanno dal locomotore di soccorso proprio per ovviare a quegli incidenti, i Dua, finanziati circa 3 milioni e 8,50, ammodernamento dell'officina di Torre della Madonna e tante altre situazioni che ci consentiranno di ultimare due lavori importanti che ci spingeranno verso Castel di Sangro che sono la messa in sicurezza della frana di Villa Santa Maria e soprattutto la delita Castel di Sangro che sarà quasi l'ultimo miglio per ritornare con il treno a Castel di Sangro. Da tutto questo mi pare di capire che il trasporto ferroviario è il futuro, è il futuro prossimo per questa parte d'Abruzzo almeno. Lei ci crede? Perché quando si parla di TPL non si parla certo di aree interne, si usa di solito l'auto, l'auto privata. Però le posso garantire che io avendo fatto il viaggio con l'auto privata da Villa Santa Maria o dal Lago di Bomba o da Castel di Sangro per arrivare a Lanciano non è che sia una cosa proprio comoda, agevole. Lei partirà, non sarà un frecciarossa, però lei partirà comodamente con un treno ultramoderno da Villa Santa Maria e potrà arrivare a Pescara in 50, 55, 60 minuti. Quindi la consideriamo un po' come una metropolitana di superficie per semplificare? Ma io infatti considero anche il trasporto di Tua sulla Triadica un discorso di metropolitana di superficie. Non ci dimentichiamo che il passato amministratore delegato di Ferroviro dello Stato l'ingegnere Mauro Moretti e battezzò la metropolitana d'Italia il primo frecciarossa il Roma Milano. Perciò noi possiamo fare la stessa cosa sulla torsola triadica e io mi spingerei anche verso Ancone. Addirittura, quindi fino alle Marche. Ma tornando a noi, dunque tornando in Abruzzo, quindi quanto tempo ci vorrà secondo lei per questa infrastruttura? Guardi, i fondi FSC hanno la stessa tipologia di esecuzione del PNRR, solamente c'è un arco temporale che è più avanti di circa un anno e mezzo. Tutti questi lavori dovevano essere ultimati entro il 31-12-2027. Non mi chiede come faremo tante altre amministrazioni, ma ce le mettiamo tutte perché credo che un'opportunità per il ferroviario abruzzese di questa portata e di questo genere difficilmente potrebbero ricapitare. Se quei soldi non vengono impiegati, non vengono rendi contati entro quella data, seguono come dicevo lì del PNRR, verranno tolti e lì poi non so che succederà. Faccio questa domanda perché stiamo seguendo anche l'evolversi del prolungamento della Fondo Valle Sangro e dunque tra i vari ritardi e problemi che sono sorti nel cantiere che è proprio lì a Gamberale. Mi chiedevo appunto i tempi, quali fossero i tempi per realizzare invece il raddoppio di questi binari? Guardi, io lo confermo, deve essere il 31-12-2027, possono esserci dei 3-4 mesi in più dove verranno fatti i collaudi, eventuali riservi del costruttore o qualsiasi altra situazione che non porti al collaudo definitivo. Però tornando alla Fondo Valle Sangro, io ho seguito perché loro hanno il cantiere impiantato a Gamberale sulla nostra sede ferroviaria, lì c'è stato anche un pizzico di sfortuna. Primo, trovare il gas dentro la galleria è stato qualcosa di devastante proprio per il proseguimento dei lavori e secondo poi loro si sono impattati fortemente con l'aumento di prezzi che erano stati quantificati all'atto del bando di gare. Tra Covid e Superbonus, giustamente, e Ucraina può avvenire che ha inciso fortemente sul ferro e sul cemento. Invece questi nostri fondi sono già di prezzi comprensivi tutti questi aumenti perciò almeno in teoria non dovrebbero esserci sorprese. Allora, vediamo una bella pagina culturale che sarà quella appunto di L'Aquila, città della cultura per quanto riguarda l'anno 2026. Anche la divisione ferroviaria tua si sta preparando per questo importante evento e come potrà essere utile per L'Aquila? L'Aquila e l'Abruzzo diventeranno proprio gli alfieri della cultura in Italia e noi potremo contribuire, anzi no potremo, contribuiremo sicuramente prima di tutto iniziando prima dell'estate brandizzando tutti quanti i treni con il logo dell'Aquila capitale della cultura 2026 e poi rafforzando la corsa giornaliera che abbiamo da Pescara via Chiedi sul Mona all'Aquila cercheremo di fare anche un raddoppio se non terbicare le corse tra il sabato e la domenica e stiamo studiando anche dei percorsi da Terni verso l'Aquila, perciò faremo un trasporto pubblico locale se così possiamo chiamarlo, anche Inter Umbra. Adesso veniamo proprio a parlare di Casa Nostra, ovvero di Lanciano perché non posso non esimermi da fare la domanda sulla Sangritana, lei era stato disegnato proprio dal socio unico di Sangritana S.P.A. che è la tua S.P.A. era stato disegnato come successore di Alberto Amoroso come amministratore unico ma dopo una settimana, cioè si era insediato ma dopo una settimana invece ha gettato la spugna. Perché? Se lei mi consente io devo fare doverosamente una piccolissima recitazione, ossia io sono tre anni che sono a Lanciano. Bisogna capire una cosa importante che i fasti storici e la conservazione della memoria storica dell'antica FAS Ferrovia Triatico Sangritana li ha inglobati tua divisione ferroviaria e credo che le stia custodendo nel miglior modo possibile perché due divisioni ferroviari rientra dalle 5 imprese ferroviarie migliori d'Italia. Perciò noi stiamo proprio non cullandoci su qualcosa, su un antagonismo. Per noi la provenienza e la nostra storia si origina da FAS e la portiamo avanti nel miglior modo possibile. Fatto sta che per le feste di settembre a Lanciano esporremo il revamping completo del treno della valle che è stato tutto quanto riverniciato con l'antica livrea e con tutti i colori interni del momento. Dove sarà messo? Qui alla stazione del Mancino, per esposto sia il treno della valle che la vaporiera. Invece l'attuale Sangritana S.P.A. è un agnuco, ossia una nuova compagnia, una nuova azienda, ha otto anni, è un'azienda a mercato. Di conseguenza non incarna quella tradizione che incarniamo noi. Questo però è un difetto che tanti magari o non vogliono capire o non capiscono perché il nome Sangritana può essere un'assonanza. Però non c'è proprio nessun punto di contatto. Fatto sta che tua non potrebbe mettere nemmeno un centesimo dentro Sangritana S.P.A. perché è un'azienda a mercato. Perciò non può prendere soldi pubblici per mettere un'azienda a mercato perché un concorrente potrebbe dire perché stai dando questo subvenzionamento. Ho fatto l'esempio che io poi non mi occupo di queste cose, però di buon senso. Anche perché il dibattito è molto acceso, proprio anche se è riacceso in queste settimane, è proprio un'occasione di questo avvicendamento a capo appunto della Sangritana S.P.A. perché si parla molto della vendita delle quote, di parte delle quote di questa azienda. Viene fatta tantissima confusione. Oggi scade alle 18, scade il termine ultimo per la presentazione delle offerte di parte industriali che dovrebbero acquisire queste quote. Però io penso che un pizzico di buon senso possa far riflettere a tutti quanti. Oggi nell'economia globale se si è troppo piccoli non si va da nessuna parte. Se si è troppo grandi si diventano monopolisti. La via di mezzo non esiste. Di conseguenza voi traete le conclusioni. Tua e la regione stessa, l'azionista di maggioranza, che è la regione a tutti effetti perché essendo il proprietario di Tua, la regione Abruzzo, non ha rifiutato tantissime offerte di fondi soprani o di fondi prettamente economici e finanziari che volevano comprare soltanto l'Adriatica, non Sangritana, la linea Adriatica e la Biasta di Saletti. Invece qui si cerca un partner che possa far diventare Sangritana e S.P.A. un'azienda più grande. Io ci ho sempre creduto. Se io magari potevo dedicarmici in passato appena arrivato con il mio collega Alberto Amoroso avremmo sicuramente fatto delle cose eccellenti. Poi magari gli impegni sono stati un po' divergenti. Però anche in questo caso si è acceso un dibattito politico. Io ho sentito delle dichiarazioni all'atere del discorso di Sangritana che magari a Sangritana stanno arrivando sei treni nuovi da parte del Ministero delle Infrastrutture. Non è così. Quelli sono sei treni che fanno parte di un piano di 730 milioni di euro nazionale. In quota parte l'Abruzzo ne ha presi 37 che giustamente il Ministro dei Trasporti ha suddiviso a secondo dell'importanza di grandezza demografica delle varie regioni. All'Abruzzo sono costate 37 milioni ma non andranno come sei treni in Sangritana perché tutto Sangritana non può avere treni, potrebbe avere soltanto locomotori. Vanno a Trenitalia perché è la compartecipazione all'investimento in materie notabili di Trenitalia da parte della regione. Anzi è stato ritardato per questo investimento, non c'era più. si è riacceso in questo modo e in questa maniera. Lei penso che mi voglia fare l'ultima domanda. No, no, siamo giunti alla fine. Perché insomma non ha più accettato poi di stare al Dattice di Sangritana S.P.A.? Io dico soltanto questo. Io già avevo preso possesso del mio ruolo, ho preso appuntamento con il notaglio per delegare, per fare le procure ai vari miei collaboratori sia da un punto di vista ambiente, sicurezza e lavoro e sul finance. Già eravamo pronti per fare un piano di azione concordandolo con l'azionista di riferimento che è il managgio di Medidua. Purtroppo ho avuto dei impegni personali, che non sto qui a dire perché penso che non possono interessare a nessuno, che non mi hanno consentito di avere la giusta lucidità e la presenza per stare, diciamo come si dice, sul pezzo. Io ho fatto per circa tre settimane il pendolare Roma-Lanciano e le posso dire che non è che sia una passeggiata. Certo, certo. Questo l'aveva detto anche nel comunicato stampa, insomma, quando è avvenuto questo cambio al vertice. Allora siamo giunti al termine di questo appuntamento con il punto dopo il Tg Max. Grazie ancora una volta Enrico Dolfi, direttore della divisione ferroviaria Tua S.P.A. e grazie a voi tre spettatori per averci seguito fin qui. Arrivederci alle prossime puntate. Buonasera. Grazie a tutti.